Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotess. Ho creato una nuova poesia dal titolo Il Timore Sacro. Spero la condividere a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Il Timore Sacro perché dobbiamo avere una premura e capire di agire bene in caso contragio una misura delle nostre azioni complesse e deve essere ben valutata. Dobbiamo avere il timore sacro di evitare così di sbagliare. E con ogni gesto andare verso un ragionamento serio, concreto, che ci faccia risolgere da un errore mortale. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Il Timore Sacro. Dovete avere la premura di capire se ben agite e in caso contrario la misura delle vostre azioni complesse. Dovete avere il timore sacro ed evitare così di sbagliare e con ogni gesto andare verso il ragionamento per risorgere dallo sbaglio mortale. Il Timore Sacro crei in voi una coscienza santa e pulita, degna dei discorsi austeri che vi offrano una degna riuscita. Il Timore Sacro sia per voi un metodo per non peccare e doni a voi ragionamenti saggi per farvi sorridere e ben sperare. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.